La cultura della legalità, la promozione della proprietà intellettuale, la lotta alla contraffazione sono una delle priorità di Mido. Come si è evoluto questo servizio negli anni? Cominciamo a dire che il servizio anticontraffazione è in Mido fin dal 1995, quindi è un servizio che per forza si è evoluto negli anni, da servizio di informazione agli espositori a un grande servizio di intervento immediato, esattamente come si è evoluta negli anni anche la contraffazione, si è evoluto il servizio e quindi è andato verso un'evoluzione di intervento immediato a disposizione di tutti gli espositori. Non è un caso che ad oggi nel Mido 2015 abbiamo avuto 17 sequestri già effettuati. Una delle novità del 2015 è la responsabilizzazione degli organizzatori delle collettive asiatiche. In che cosa consiste e sta funzionando? Direi proprio di sì. In realtà anche la collocazione del servizio anticontraffazione è modificata in quest'anno 2015, noi siamo qui in questa parte delle esposizioni asiatiche. Innanzitutto è un deterrente la presenza di un servizio anticontraffazione già all'interno di questo aspetto, ma la responsabilizzazione delle collettive asiatiche nasce proprio dall'osservazione che la massima parte dei sequestri era effettuata proprio da parte degli espositori asiatici e per cui abbiamo chiesto una sorta di responsabilizzazione da parte degli organizzatori e dei responsabili. È una prima richiesta, è un primo anno, credo che sia stata una richiesta estremamente motivata e anche compresa e che sta dando sicuramente dei buoni frutti. La contraffazione nel settore si è evoluta nel tempo? Cosa è cambiato? Beh, si è evoluta, direi che è diventata sempre più pericolosa e sofisticata. Pensiamo alla contraffazione online, pensiamo ai vari tipi di contraffazione, di nascondimento del marchio, ma anche questo tipo di evoluzione è la contraffazione che dal marchio si è nata verso i modelli, per cui si chiede anche ai titolari dei diritti una maggiore attenzione sui depositi dei modelli. Questo è un aspetto della contraffazione che sicuramente è in grande evoluzione e l'hanno dimostrato anche i sequestri 2015, quasi tutti proprio sui modelli e non sul marchio. Grazie mille per essere stata con noi. Grazie a voi di questa attenzione alla proprietà intellettuale e alla lotta alla contraffazione, che è la caratteristica importante di Mido.